Iniziare a raccogliere dei fondi per potersi presentare nella maniera più adeguata nel momento in cui si dovrà decidere l'esercizio provvisorio. L'Arizzo non muore. Il comitato dei tifosi Orgoglio Amaranto apre un conto corrente per cercare di salvare la società e terminare la stagione. Il 15 marzo ci sarà infatti l'udienza al Tribunale Fallimentare per cercare di ottenere l'esercizio provvisorio. Servirà circa un milione di euro per portare a fondo la stagione. Mentre il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli sta cercando di mettere insieme alcuni imprenditori, il comitato Orgoglio Amaranto lancia un conto corrente aperto ad aziende e singoli tifosi. Saranno possibili versamenti in vari tagli che saranno ricompensati con una pergamena ricordo. Intanto c'è la copertura per le spese della trasferta di Olbia. La squadra infatti sembra intenzionata a scendere in campo. Con le iniziative che abbiamo messo in campo contiamo di raccogliere una cifra buona che ci possa permettere di coprire quelle che possono essere le spese di gestione, di trasferta da qui alla fine della stagione e soprattutto di poter sostenere il settore giovanile. Questi sono i nostri obiettivi principali. Noi ci dobbiamo far trovare pronti e più che altro dobbiamo far vedere che Arezzo partecipi e c'è. Quindi dobbiamo avere una grossa risposta in termini numerici. Io spero che ci sia tantissima gente che aderisca all'iniziativa. Perché è importante far capire che Arezzo c'è, che Arezzo può e ce la possiamo fare tutti insieme.